Non so, come potesse sperare che dire sì, sì, avrei tanto piacere di uscire, è una cosa che può convincere chi deve decidere. Tecnicamente non è una richiesta, è una chiacchierata, insomma. Commenta così l'avvocato castellano Roberto Quintavalle, all'epoca legale della famiglia Tassitani, l'istanza di scarcerazione anticipata avanzata da Michele Fusaro, 55 anni, condannato per il sequestro e il barbaro omicidio nel 2007 di Iole Tassitani. Inoltrata la Cassazione non tramite un avvocato, ma da sé, il che rende automaticamente non valido il ricorso. Lui può chiedere quel che vuole, ma se non lo fa per via, diciamo così, legale, giudiziaria, sono chiacchiere che non contano niente. Non ci sono solo questioni formali a rendere la richiesta di Fusaro irricevibile. Condannato a 30 anni, pena che quindi si è applicata interamente e terminerebbe di scontare nel 2037, il falegname bassanese si è sempre rifiutato di fare i nomi dei suoi complici. Il discorso di non aver mai dato nessun elemento che potesse portare ai materiali esecutori del delitto è una colpa molto grossa, insomma. E poi il suo legale avrebbe fatto una richiesta appunto di scarcerazione anticipata, di sottrazione di qualche anno di carcere, come messo anche alla prova, sono diversi sistemi, ma quantomeno c'era una motivazione, insomma. Così resta quello che è. Grazie. Grazie.